Nasce il Banco Marchigiano, è questo il nome della nuova banca di sistema regionale che è stato presentato nella sede della BCC di Civitanova in via Matteotti. Il nuovo istituto di credito che avrà valenza giuridica dal 15 dicembre abbraccerà quattro province marchigiane, avrà 24 filiali, 160 dipendenti e quasi 9.000 soci. Una pagina storica per l'economia del territorio, come ha sottolineato il direttore generale Marco Moreschi. Sì, è un figlio che nasce, siamo veramente entusiasti, giustamente concentrati, visto che stiamo navigando contro corrente, sperando che la corrente non sia troppo forte. nasce una realtà che ci riempie di gioia e ci dà stimoli davvero importanti per far bene per una regione, come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, che chiama una banca regionale, ha bisogno di una banca regionale e noi vorremmo metterci a servizio di questa necessità. Nei giorni scorsi ha avuto un incontro con tutta la compagine dei dipendenti, Civitanova e Suasa, la parola d'ordine è stata, d'ora in poi saremo un'unica compagine unità. Sì, io da sempre ritengo che le aziende siano fatte di uomini, di donne e senza di loro non si va da nessuna parte. Questo è un progetto importante, una sfida difficile e ho voluto radunare tutti perché ho bisogno di avere tutti a bordo. Non ci sono protagonisti comparse, dobbiamo essere uniti perché il progetto lo richiede e le sfide hanno bisogno veramente di una compattezza, di un'unità di intenti unica. Ho visto entusiasmo e questo evidentemente ci conforta ancora di più nel proseguire nel sentire o tracciato. La nuova banca nasce di fatto dall'ampliamento territoriale esponenziale della BCC di Civitanova Marche e Monte Cosaro in questo 2018 in cui dopo le aperture delle tre filiali in territorio onconetano a Castelfidardo, Osimo e Loreto e dopo la prossima incorporazione della BCC pesarese di Suasa sarà definitivamente destinata ad uscire dai confini territoriali storici del maceratese del Fermano e acquisirà a tutti gli effetti una dimensione regionale che si dovrà rispecchiare anche nella ragione sociale stessa della banca. Siamo col presidente della BCC Civitanova Marche e Monte Cosaro, Sandro Palombini. Presidente, che periodo intenso per questa banca? Beh, è un periodo particolare perché ci sono molte novità. Stiamo vivendo una fase che potremmo definire epocale per il semplice fatto che c'è una riforma del credito cooperativo che modificherà i rapporti economici e giuridici con la capogruppo. Parallelamente stiamo portando avanti un piano molto avanzato relativo allo sviluppo della banca su un territorio regionale. Tant'è vero che oggi già verrà indicato quello che è il nuovo nome della nuova banca che avrà un carattere regionale. Abbiamo aperto quest'anno sia nel territorio anconetano con tre filiali ma anche stiamo portando avanti un'operazione che si concluderà nell'ambito del 2018 un'operazione di fusione con banca su Asa che ci permetterà di arrivare fino alla zona di Pesaro. L'abbiamo presentata come presidente del BCC Civitanova ma dal 15 dicembre sarà ufficialmente presidente del Banco Marchigiano appunto questa nuova banca che coprirà quattro province su cinque marchigiane che si prefigge di diventare un nuovo punto di riferimento per famiglie e imprese. Sì, beh, è una banca che comunque ha dietro le spalle la capogruppo quindi sarà di dimensioni ovviamente maggiori perché comunque è una banca che avrà circa 25 filiali, 160 dipendenti presenti su quattro province ma non cambia quelli che sono gli obiettivi che fra l'altro sono previsti statutariamente cioè la vicinanza al territorio, alle famiglie, alle imprese sostenendole con impieghi, raccolta, titoli con qualsiasi operazione finanziaria che possa essere di aiuto al territorio. In Pratea quest'oggi è stata presente una nutrita rappresentanza del territorio dalle istituzioni all'associazione di categoria agli imprenditori. Sì, c'è stata la presenza anche delle autorità politiche che possono veicolare sul territorio quello che è il nostro progetto la presenza degli esponenti di Banca d'Italia che oltre che essere stato organismo di vigilanza hanno molto collaborato e aiutato la banca nel portare avanti quello che è il progetto imprenditori, soci, clienti quindi anche la presenza di altre banche nell'ambito del credito cooperativo incluso anche il direttore della federazione che comunque appartiene all'altro gruppo ma questo non è un problema, voglio dire c'è sempre collaborazione. Quest'oggi abbiamo presentato anche qui in BCCC Vitanova questo progetto di ingresso nella nuova capogruppo che cosa significa questa particolare fase per Casa Centrale Banca in cui ormai siamo a un metro dal traguardo? Beh, indubbiamente è un periodo estremamente impegnativo ma molto stimolante soprattutto perché riscontriamo un ampio consenso da parte delle banche che hanno deciso di aderire al nostro gruppo e quindi insieme stiamo arrivando al traguardo per costruire una realtà importante nel credito cooperativo italiano e nel sistema bancario italiano facendo salvi però i principi di radicamento territoriale di ciascuna delle banche che andranno a costituire il gruppo e in particolare di Banco Marchigiano questa importante realtà regionale che sta per nascere insieme alla nascita del gruppo bancario cooperativo nella regione delle Marche. Professore Alessandrini, l'importanza di mantenere il legame col territorio? È l'importanza soprattutto per una banca di avere la conoscenza contestuale cioè dei propri clienti, delle necessità di sviluppo e soprattutto raccogliere risparmio nella regione e reinvestirlo nella regione, questo è importante. Un nuovo punto di riferimento come questo che sta sorgendo con il Banco Marchigiano lei dal suo punto di vista di osservazione che da sempre segue l'economia marchigiana come lo interpreta? Ma un fatto molto positivo perché dopo aver perso diverse banche a cominciare dalla più importante che era la banca delle Marche riuscire a rivitalizzare il tessuto bancario marchigiano soprattutto avendo rispetto della territorialità è molto molto decisivo per lo sviluppo della nostra regione. Il Banco Marchigiano verrà definitivamente approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci della BCC di Civitanova il prossimo 11 novembre che seguirà l'analoga assise che si terrà a Castelleone di Suasa il giorno prima, il 10 novembre. Le due assemblee voteranno il progetto industriale di fusione per incorporazione nella BCC di Civitanova della BCC di Suasa il nuovo nome, logo e veste grafica. Una doppia assise dal sapore davvero storico che discuterà di progetti e interventi che andranno a segnare un passaggio epocale per entrambe le banche di credito cooperativo. il territorio deve mantenersi da un po'